Distesi sulla panca inclinata, con la schiena ben aderente, impugnare il bilanciere con i palmi delle mani rivolti in avanti, con una larghezza adeguatamente maggiore rispetto alle spalle. Da questa posizione effettuiamo delle distensioni verso l'alto del bilanciere, facendolo tornare in prossimità del medio superiore dello sterno durante la fase passiva. Effettuare l'espirazione durante la distensione, inspiriamo durante la fase discendente del bilanciere. I muscoli interessati sono gran pettorale, deltoide anteriore e tricipite. Grazie a tutti.